Il 19 maggio sarò in piazza perché la mia pensione non viene più rivalutata, non viene rivalutata nei termini di seguire, di riuscire a recuperare l'inflazione. Per cui io credo che la scelta del Governo sia stata sbagliata e che non debba essere sulle pensioni che devono fare cassa. Noi non siamo il Bancomat del Governo. Grazie a tutti!